Bentornati, oggi vedremo come implementare l'idea di coda. Quindi se la scorsa volta abbiamo visto che cos'è una pila, ovvero che cos'è l'idea di pila intanto, e che cos'è una... e come la si implementa in Java, oggi invece vedremo come si implementa una coda. Che cos'è una coda? Una coda è semplicemente esattamente come quella che fate al supermercato, quindi è un insieme di oggetti, tutti dello stesso tipo, che si mettono appunto in coda e verranno selezionati in base all'ordine di arrivo. Quindi il primo che arriva deve essere anche il primo che poi verrà estratto dalla coda per poi essere servito. E non si devono ammettere eccezioni in questo. Quindi non può esistere qualcuno che passa davanti alla coda, appunto, che salta la coda, ma si può soltanto entrare nella coda dal fondo, quindi dal retro della coda, e si può soltanto lasciare la coda dalla cima. Quindi soltanto il primo della coda potrà lasciare la coda, appunto questa. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere come lo si programma in Java. Intanto iniziamo a dire una cosa per non confonderci. Coda in inglese si dice Q. Come sempre andiamo a definire il nostro campo principale, fondamentale, per costruire questo tipo di struttura dati. Nel nostro caso è First, ovvero il primo della coda. Abbiamo deciso di utilizzare un'implementazione fatta in questo modo, sempre per utilizzare i nodi che abbiamo costruito due lezioni fa. Ogni nodo conterrà nel suo elemento next il successivo della coda. Quindi se io sono il secondo, nel mio elemento next ci sarà il terzo, e io mi troverò nell'elemento next del primo. Dopodiché sono i ricostruttori. Questo è il più facile di tutti, che crea una coda vuota. Questo che invece va a creare una coda con un solo elemento, che ovviamente viene messo in First tramite nodo. E poi abbiamo subito il nostro terzo costruttore, che è il primo su cui dobbiamo porre un pochino l'attenzione. Vediamo che come argomento prende un array di interi. Questo array di interi viene quindi osservato, viene scorso iterativamente, e ognuno di questi elementi viene messo nella coda tramite il metodo enqueue, che appunto vuol dire metti in coda. Vediamo anche che abbiamo soltanto ed esclusivamente un metodo getter. Niente metodi setter, perché ovviamente questo potrebbe causare dei problemi, perché se avessimo dei metodi setter, qualcuno dall'esterno, pubblici ovviamente, qualcuno dall'esterno potrebbe tranquillamente andare a modificare First, diciamo passando davanti alla coda, quindi senza preoccuparsi del fatto che in coda, prima di modificare lui, devi aver modificato tutti gli altri, diciamo. Deve aver finito, deve essere uno nuovo, quello che è modificabile. Quindi potrebbe, diciamo, passare davanti, potremmo aggiungerne un altro davanti a lui, e questo non sarebbe corretto. Vediamo poi la definizione del metodo toString, che questa volta, a differenza della scorsa, abbiamo deciso di fare in maniera iterativa. Abbiamo un nodo P che ci serve per scorrere la coda, appunto. Domanda per i più attenti. Perché non possiamo utilizzare direttamente il nodo First per scorrere la coda? Beh, la risposta è semplice, perché se utilizzassimo il nodo First perderemmo la cima della nostra coda. Non sapremo più qual è il nostro primo elemento, perché ovviamente First dovrebbe essere tutte le volte modificato al suo successivo, e quindi è come se tutte le volte stessimo togliendo dalla coda qualcuno. Poi abbiamo la nostra stringa vuota che dovremmo restituire alla fine delle nostre iterazioni. Iniziamo con lo scorrimento vero e proprio, quindi andiamo a controllare che P non sia l'ultimo della coda, e che quindi non abbia nessuno dietro, perché ricordiamoci che nell'attributo Next c'è sempre il prossimo, se non c'è niente vuol dire che sono l'ultimo, e iniziamo a scrivere. Quindi scriviamo che il primo è questo numero, e dietro di me ci sarà qualcun altro, eccetera, eccetera. E tutte le volte ci spostiamo alla prossima espressione. Quando arriviamo all'ultimo, perché ricordiamoci che per l'ultimo non è ancora stato eseguito niente, perché abbiamo detto che ci dobbiamo fermare, dobbiamo fermare il while quando arriviamo all'ultimo, per l'ultimo andiamo sempre a scriverlo, e scriviamo anche sono l'ultimo, così che possiamo differenziarlo meglio. Alla fine ovviamente restituiamo il prodotto del nostro metodo. E poi abbiamo il nostro primo metodo, diciamo veramente serio, che in questo momento è importantissimo capire perché è la base del perché funziona la coda, e perché stiamo creando una struttura dati affidabile, ovvero che qualcuno dice lo metto in coda, so che quando lo metto in coda va alla fine della coda e non va in un posto a caso. Andiamo subito a vedere quindi la definizione. Abbiamo che se la nostra coda è vuota, nulla di più semplice, questo è il caso fondamentale. Andiamo a prendere il nostro nodo first e lo trasformiamo nel nuovo nodo n. Ricordiamoci che stiamo cercando di mettere in coda sempre un numero, quindi n. Altrimenti, come al solito, ci andiamo a creare un nodo per scorrere la nostra coda, perché non è possibile farlo col metodo first come spiegato prima. Andiamo sempre a scorrere finché non arriviamo all'ultimo elemento. Quando siamo arrivati all'ultimo elemento, semplicemente andiamo a utilizzare il metodo della classe node setNext, che va appunto a mettere come next del nostro P il nostro nuovo nodo con n e nessuno dietro. Quindi effettivamente stiamo andando a mettere letteralmente in coda questo nuovo numero. Perché? Ripetiamo. Perché abbiamo reso il next, ovvero il prossimo dell'ultimo, un nuovo nodo appena creato, con all'interno n e con nessuno dietro. Quindi effettivamente n lo stiamo mettendo all'ultimo posto. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Se non è così, fatemelo sapere subito. Ebbene, siamo arrivati al momento della challenge. Sapreste scrivere un metodo dq che al contrario del metodo enq toglie dalla coda un elemento? Piccolo suggerimento. Per togliere un elemento di una coda, quale elemento possiamo sempre togliere? Sempre e soltanto il primo, mai l'ultimo. O mai nessuno in mezzo. Bisogna sempre togliere il primo della coda. Beh, spero che vi siate divertiti a fare questa piccola challenge. Andiamo a vedere la soluzione che vi propongo io. Beh, in effetti questo metodo è abbastanza semplice. Abbiamo un intero n, perché ovviamente quando togliamo dalla coda, essendo una coda di elementi, altrimenti non avrebbe alcun senso parlare neanche di una struttura dati, il dato vogliamo che una volta tolto dalla coda ci venga restituito. Quindi come prima cosa lo salviamo. Andiamo a metterlo all'interno della variabile n. Poi trasformiamo first in un nuovo nodo, ovvero in quello successivo. Cioè facciamo uscire first fondamentalmente dalla coda. E andiamo a restituire n, ovvero il numero che ci eravamo salvati poco fa, che era il vecchio valore di first. Lo restituiamo così che possa effettivamente essere utilizzato. Una volta che questo dato sia fatto il suo giro in coda, può effettivamente essere riutilizzato dal programmatore finale, che utilizzerà la nostra classe. Mettiamoci ora nei panni del programmatore finale, possiamo provare ad utilizzare la nostra coda in diversi modi. Io vi propongo questo qua. Per prima cosa andiamo a creare una coda q. Utilizziamo il costruttore che ha come parametro un array, così da avere già almeno quattro elementi nella coda. Piccola nota. Ho dato per scontato che chi mi passa un array l'abbia già ordinato in ordine di arrivo per la coda. Quindi ho dato per scontato che se mi viene passato l'array 1, 2, 3, 4, è perché io voglio alla fine vedere in prima posizione il numero 1, in seconda posizione il numero 2, in terza posizione il numero 3, in quarta posizione il numero 4. Questo è il motivo per cui abbiamo programmato questo metodo costruttore nel modo che vi ho mostrato prima. Poi andiamo a testare subito la toString della nostra coda, utilizzando appunto la printLine. Andiamo quindi ad aggiungere due nuovi valori. Ricordiamoci che vogliamo che questi valori siano sempre aggiunti alla fine della coda. La ristampiamo e poi andiamo a togliere un elemento. Quell'elemento lo stampiamo di nuovo, lo salutiamo, e poi ristampiamo di nuovo la nostra coda. Andiamo quindi a compilare e ad eseguire il nostro codice e andiamo a vedere il risultato. Abbiamo la nostra coda iniziale, formata appunto, come vi avevo detto, dai numeri 1, 2, 3, 4. A questa coda abbiamo aggiunto il numero 12 e il numero 2. Poi abbiamo rimosso il numero 1, perché ovviamente era il primo della coda, e quindi la coda è rimasta come 2, 3, 4, 12, 2. Bene, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, di commentare, farmi sapere tutti i vostri dubbi, domande, perplessità, di condividere il video a tutti gli amici, e nel frattempo vi saluto ancora e vi ringrazio. Ciao!